benvenuti siamo sulle onde di biradio in compagnia di alessandro di un ospite specialissimo questa sera e naturalmente la trasmissione che va in onda è quella di euro meeting che si propone ecco il diciamo il compito di farvi attraversare il confine andare oltre quelli che sono i posti che voi conoscete normalmente e girare un po in europa e in questo caso in polonia siamo in collegamento con bitom spero di averlo detto bene alessandro ok l'hai detto bene complimenti ok e allora intanto grazie grazie intanto sono veramente onorato di essere in collegamento con tome che adesso tu ci presenterai naturalmente alessandro buonasera tome buonasera in polacco per la prima impareremo anche qualcosa di più stasera della lingua polacca immagino eh sì 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 se ascoltate bene ce la fate dunque intanto scusami se prevengo quello che stavi per dire tu ti trovi in un posto particolare può essere è una pasticceria gelateria perché tome che per l'appunto da qualche anno ha aperto una gelateria qui a bitom per l'appunto ed è a mio avviso la migliore anche perché io faccio da tester generalmente con i nuovi gusti in quanto esperto di gelati al quantomeno esperto a mangiarli questo sicuro ascolta una domanda allora subito per tomec a bruciapelo qual è il gusto più strano che ha avuto come richiesta è un piaccio che hanno chiesto i clienti o che lui ha fatto di testa sua o detto entrambi entrambi esatto entrambi il più strano che ha fatto lui di sua iniziativa sono stati due uno al sabore di salmone e l'altro al sabore di pancero è stato affubicata non me lo sarei mai aspettato Dico la verità un secondo, in questo momento in cui aggiungo i stavo stavo anche con il pomidoro e ci potevo come un giusto 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 ok l'ha preparato quello al bacon quello alla pancetta affermicata con un po di gusto al pomidoro anche e su un tosto e un pochettino di aceto balsamico di sopra effettivamente sempre interessante per l'innovazione e devo dargli il primo premio perché non l'ho mai sentito quindi veramente merito il primo premio qua è molto richiesto il gusto gelato gorgonzola che comunque con le noci noci e con fichi caramellati caramellati guarda allora secondo me adesso sta salendo veramente la curiosità di assaggiare i suoi gelati prima o poi andremo a trovare verremo a trovarlo sicuramente cioè ci 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 organizzeremo proprio per essere assaggiatore ufficiali anche dei suoi gelati e probabilmente vediamo se possiamo fare probabilmente vediamo se possiamo fare un gemellaggio brolo bitum tanto diciamo le iniziali ci sono ecco adesso Esatto, esatto, esatto. No, on proponuje, che possono fare un... ... 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 No, no, lo facciamo con piacere. ... ... ... facciamo con piacere. Allora Alessandro, non molto veloce che soffriamo di male. Allora Fio è che sia il cognome suo che, vedete questa predominanza di viola, perché, per esempio le poltroncine, perché viola è anche il fiore, cioè Fio è che è anche il fiore, la viola proprio. Ok, ok. E quindi, ok, ieri era, l'altro ieri era Halloween, là ci sono le zucche, quindi. Ok, fatta la panoramica. Qua inoltre lui espone in continuazione quadri della nostra città, fatti da artisti del luogo, li espone e ovviamente se qualcuno li vuole comprare può comprarli tranquillamente. Ce ne sono alcuni che sono particolari. Sì, sì, sarebbero proprio da venire a vedere. Invito tutti a venire. Senti, due parole molto veloci sulle tradizioni che ci sono lì in questo periodo. Tu mi hai detto che lì c'erano le zucche di Halloween. Sì. E qui sai benissimo che c'è la tradizione dei morti. Ecco, lì Halloween è una festa, loro, è importata, hanno delle loro tradizioni? Allora, qua, quali sono le tradizioni dei giorni? No, Halloween, ok, è in America, in Anglia, in Italia, ma qui c'è solo spacerare... Allora, qua sì, Halloween come da noi d'altronde è importato, o dalle iso, le britanni che ho dall'America direttamente. Mentre le feste obbligatorie, comandate e quelle più tradizionali sono ogni santi ieri, dove la tradizione vuole che andiamo, giriamo per i cimiteri, ovviamente andiamo a trovare i nostri cari che sono passati in più e oggi invece appunto un giorno da più che altro da passare in famiglia, tra i nostri cari ancora in vita, anche se oggi è il giorno dei morti e ieri era il giorno degli santi. Però, appunto, siccome è festivo quello di ieri, allora in quel giorno la famiglia gira per tutti i cimiteri. Quindi una tradizione come la nostra, grosso modo la possiamo annoverare come la nostra? Sì, 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 assolutamente. Ascolta Alessandro, ci siamo già detti prima in anticipo che eri con il tuo ospite per fargli raccontare un'esperienza molto, molto forte che risale, diciamo, all'inizio della guerra in Ucraina. Ecco, adesso lascio a te completamente il compito di intervistarlo e di fargli le domande che ritieni più opportune. Ok, ovviamente interrompimi se hai qualche curiosità in più, no? Io la storia già la conosco. Naturalmente. Allora, intanto è successo che quando è iniziata l'invasione della Russia in Ucraina, tutta la Polonia si è mossa, come vi ho raccontato già in passato. Quando quest'estate tu mi proponesti questo tipo di incontri, questa trasmissione, la prima cosa a cui pensai, la prima persona a cui pensai fu proprio Tomek, perché lui appunto quando è iniziata quella tragedia in Ucraina è stato uno dei primi da qua, da Bitom, a portare aiuti umanitari oltre il confine dell'Ucraina, oltre ad aiutare parecchie persone a raggiungere che già abitavano qua, quindi andava là, portava... e cosa hai trovato da l'Ucraina? Allora lui, come prima cosa appunto è andata in tanto... chiedeva che cosa avessero bisogno e già la prima volta che è andato, le prime cose che ha portato sono state appunto farina, lievito secco, olio, sale, tutto quello che potevano aver bisogno per cucinare, perché già là i negozi cominciavano a essere completamente e non avevano i beni di prima necessità, ok? Potremmo a drugi razzi... Noi, i primi due transporti erano gruppi e comuni, e druciati. Ok, quindi le prime due volte abbили questi generi di prima necessità per poter cucinare, Quanto meno la base, ecco. Potem? Potem zaczęło się wożenie rzydności takiej podstawowej jak ryż, kasza, makarony, sos do tych, żeby położyć proste, słoika, coś gotowego. No i oczywiście medyczne rzeczy. Bardzo dużo poszliśmy materiał popatrunkowy. No, głównie takie medyczne rzeczy. Già dalla terza volta hanno cominciato a portare riso, altri beni di prima necessità, oppure salse già pronte, quindi già i barattoli perché la gente potesse spamarsi velocemente. Non avevano molto tempo, insomma, da spendere in cucina quei poveracci. E poi è iniziato... Cecera, si chiedi prima volta è stato il 4 marzo, 2022 parliamo sempre. Potem byłem 10 marzo, poi appunto sette giorni dopo verso 10. Poi dalla terza volta già parliamo di aprile, i primi di aprile, e ha cominciato a portare già medicinali e, diciamo, come si dice, bende, cerotti e quant'altro, insomma. Perché appunto... Scusami, Alessandro, ti volevo chiedere, lui fino a dove si addentrava, cioè in quale parte del territorio ucraino andava. Adesso te lo dico, però tu dovresti cercare, perché io non ho modo di condividere lo schermo oggi. E poi magari fai vedere nella mappa dove esaltamente... dove esaltamente. Cioè... Ja ci powiem... W sumie byłem sześć razy. W sumie. Zawsze do Drohobycza. Drohobycz. To jest region Ok, nella regione di Leopoli. Quindi... Drohobycz. Drohobycz si chiama il paese. Poi in caso lo scriviamo in chat, vediamo. Posso dire che era localizzato comunque nella parte, diciamo, al confine, non proprio al confine, comunque vicino al confine con la Polonia nella parte nord dell'Ucraina, si può dire che è localizzato in questo posto? Nord ovest. Cos'è che... che ha visto e lo ha colpito in, diciamo, quando lui attraversava il confine. Co ty non è stata una la 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 i sono i i stagioni, i stammtom trafiano. Attacchiamo il mio primo transporte, sono in Moncon, sono in Chronobiezzio del drogobyzzo, a tutti i siediamo con l'initore di france, da questo panico, il nome è Polo e, la mattina, da con gli erano dei tre stretti di scoprilli, In questo primo mese di marzo ci sono stati scelati in voce, non vedo nessuno, ma ci sono stati spaventati. dai nazionalisti ucraini a quel tempo, hanno ancora delle radici polacche, quindi ci sono famiglie che hanno la doppia lingua, ci sono famiglie che sono effettivamente mezze polacche e mezze ucraine. Lì la cosa che lui ha notato di più, che ti faceva entrare nell'idea di essere già in guerra, era come tanti uomini e anche ragazzini, perché si parla di ventenni anche, arrivavano le divise dell'esercito e cominciavano a lasciare le case, li vedevi in giro in questa cittadina piccola che cominciavano a partire per la guerra. Le immagini che abbiamo noi, insomma, dei nostri zii e nonni che sono partiti per la seconda guerra mondiale. Esatto, solo che noi adesso abbiamo idea di quello che è successo quando loro sono partiti, i nostri. Loro in quel periodo, stiamo parlando di marzo, aprile 2022, non sapevano quello che stava succedendo e non sapevano a chi stavano andando a difendere effettivamente, se loro stessi perché la guerra stava arrivando là o se solo i territori dell'est, Ucraina, o solo la capitale, non lo sapevano ancora. Come in quelle ore era tutto molto confuso. non so se voi vi ricordate, ma io me lo ricordo bene che era una situazione di panico totale perché non si sapeva quello che stava succedendo e cosa andavano a fare. A maggior ragione erano nel panico queste persone che dovevano indossare questa divisa e dovevano partire per non si sa dove. Ascolta Alessandro, un'altra domanda mi viene da fare, scusami ma man mano che diciamo si parla di queste cose ci sono delle domande che nascono spontanee. Intanto quali sono le immagini forti, proprio forti, che gli sono rimaste impresse? Cosa è un'altra domanda, che hai iniziato, che hai iniziato in mente? in quel momento? In quel momento? Granica. Sama granica. 4 marzo, in quel momento, quando wracciato a Polskia, stavo in un'auto in un'auto. In quel momento, na polsko-ukraińskiej granici c'è molto bufor in un'auto in un'auto. Takie miejsce, wiesz, wolne, nie? Budynki są ukraińskie i budynki polskie. I bardzo duży plac do manewrowania tam, do kolejnych i tysiące kobiet wścieczki. Jak obserwowaliśmy, jak w Syrii wybuchła wojna, gdzieś nas karmiono w mediach, że to mężczyźni głównie tam pociekali, tak tutaj odwrotna sytuacja. Same kobiety, z dziećmi, ja sam widziałem na jeszcze ukraińskiej stronie, bo stałem tam, żeby wjechać na ukraińską granicę, mężczyzn lub rodziny, które przyjeżdżały samochodami, czyli mąż z żoną i z wsiakami, żegnali się, żona szła już na piechotę, dochodziła do przejścia granicznego, a mąż wracał, raz, że nie mogli przekroczyć granicy, a po drugie byli też zorganizowani, często kilka samochodów przyjeżdżało, i potem na przykład mężczyźni jednym autem wracali na Ukrainę, a pozostałymi autami te kobiety z tymi dziećmi przekraczały granicę. Albo na piechotę. Potem może wysłamy przez WhatsApp. No, diceva, scusate, ma io adesso ho di nuovo le immagini, grazie al suo racconto, magari spero di riuscirlo a riproporlo come lui l'ha riproposta. L'immagine più forte che ha è in questo confine che per chi c'è stato, non so quanti di quelli che ci ascoltano ci sono stati, io ci sono stato, che è appunto una zona enorme tra la per i controlli polacchi e i controlli ucraini di passaggio, c'erano una marea di donne con bambini e le immagini più forti appunto erano queste donne con bambini con appunto tutte le cose necessarie per il sostentamento anche per il divertimento dei bambini a mano che attraversavano a piedi questo confine e la cosa che più l'ha colpito è stato queste auto, queste auto che lasciavano al confine le donne e i bambini che dovevano attraversare a piedi e l'uomo salutava e tornava indietro perché non poteva uscire dallo stato, c'era la legge marziale scusa e quindi queste immagini oppure l'uomo che rimaneva entro i confini dava l'auto alla moglie e ovviamente con i bambini o altre donne e loro attraversavano con l'auto fino alla Polonia e quegli uomini che restavano non l'ha un po' il contrario di quello che è successo con i migranti siriani che invece erano più uomini che tentavano di attraversare il confine piuttosto che donne con bambini lì è successo l'esatto contrario ed è appunto una delle immagini più forti che gli è rimasta impresse insomma un'altra domanda che vorrei fare a Tomek il suo stato d'animo mentre andava a cercare di aiutare diciamo quelle persone che fuggivano dalla guerra e quali erano i suoi sentimenti in quel momento a co ty czuessi w tym momencie kiedy masz te obraze jasne no co się stało co ty widziałeś co było mocno ale jaki był twój czuć moje odczucie trudno to opisać bo to były takie emocje na granicy raz granica ale też potem i odczucie kilka dni później czy nawet kilka wizyt później to jednak czy do Polski czy w ogóle do Europy uchodzili raczej bogatsi ludzie lub średni klasa bo ich było strasznie a tam na miejscu dlatego trafiałem zetomomoczem dalej perché non ci si tovano in un'unico. Perché in un'unico come in un'unico uccionato, in un'unico quando i in un'unico, i in un'unico in un'unico. Perché ci si non mi sono un'unico, perché ci sono stati biede, ma non si sono stati in un'unico, perché si troppero a dipende un'unico, perché l'unico in un'unico è stato molto più importante. perché si è stato un pozo di più, perché si è stato un pozo, perché si è stato un pozo, poi non è stata una moka, i le cose si sono state più piccole, sono molto piccoli, ma molto piccoli, ma più piccole, ma in questa vita, non è stato un po pozo, è stato un pozo, che è stato un pozo, la prima di questa pomozione sono quasi quasi dopo czerwca, dopo avevo solo un pozo, ma anche due ragazze, ma anche due ragazze erano, ma sono più più pomoste medico. Quindi facciamoci a quello che mi si truppo in pamięci, queste cose, questo è stato in grado, e le loro non vedono che sono, cosa stanno facendo, come stanno postando, o con l'occhio, si trova iniziavano a loro, o con cui si possano guardare, guardare, lavorare, vivere e i tali. Sperbiamo che il popolo polsci, che ci sono stati e il popolo, a tutti i popoli, vi stanno in alto rispetto e sei un poletto. No, sì, è sì. Il sentimento che ha provato era molto pesante, anche perché sapeva e ha visto che comunque la gente che ha attraversato il confine verso l'Europa era gente della classe medio alta, i poveracci, scusate il francese, però i poveracci sono rimasti là perché non avevano nessuno da questa parte e non avevano dove andare, hanno la casa là e là dovevano rimanere e allora è ancora più pesante vedere questa gente che non si può muovere, rimanere lì e quindi portare tutto quello di cui possono aver bisogno e poi vedere appunto, il cuore si fa piccolo quando vedi anche se sono delle classe medio alte, la gente che attraversa il confine che si guarda attorno e non sa quello che sta succedendo, non sa quello che succederà da quel momento in poi perché è in una terra effettivamente straniera, la cosa ottima come vi dicevo appunto qualche puntata fa, la cosa ottima è stato l'atteggiamento dei polacchi nell'accogliere queste persone, vuoi per il nemico comune, vuoi perché una faccia, una razza, così diciamo noi, però effettivamente hanno avuto tutto l'aiuto necessario, lui stesso ha portato qua alcune persone cercando di aiutarle a reinserirsi, una di queste signore che è arrivata qua con il ragazzo, lo so perché sono stato appunto con lui in qualche momento qui dalle nostre parti quando si distribuivano vestiti oppure si cercava di trovare degli alloggi per queste persone, questa signora è riuscita a trovare un alloggio, ha trovato lavoro qui da lui, il ragazzo, suo figlio che prima studiava a Kiev, adesso studia qua, hanno imparato la lingua e adesso sono perfettamente integrati in questo territorio, forse più integrati di me, perché appunto la lingua so per certo che la parlano meglio di quanto riesco a farlo io. Molta gente è rientrata adesso, la situazione è migliorata in Ucraina o quantomeno nelle zone del nord ovest, oppure quelli che sono transitati e si sono trasferiti in Polonia, sono rimasti lì in questo momento? Cosa tu vies, se che tu vies, non? Non lo so. Certo che ora loro sono arrivati, perché la situazione è giusta solo... Strona Donbass? Certo che loro si sono arrivati qui? Molto di loro è arrivato in questa ultimità. Ostatnio, qualche giorni temu Słuchałem takiego Ciekawego wywiadu Gdzie mowa była na temat Kijowa Że w samym momencie Jak wojna wybuchła To Kijów z miasta Około 4 milionów mieszkańców Mówią, że nawet Spadło do 1,5 miliona Grudniło się miasto O te 3 milioni powiedzmy 2,5 Natomiast teraz Podejrzewają, że w Kijowie Jest więcej ludzi Bo bardzo Bo to jest tak Kijów jest najbezpieczniejszym miastem Pod względem ochrony rakietowej Na terenie całej Ukrainy Tam jest najlepsza tarcza Ta antyrakietowa I ludzie nawet, którzy W ogóle nie uciekli Z Ukrainy od początku To jeśli No, allora In base al informacioni che abbiamo Che e l'uja comunque L'uja modli prokondacki Ale to oni zostali Dalej są Tak, tak Tak, tak Tak, tak No wiem, to już mówię Eee, matka Paszka Tak, mama Pawła Paszki No i Ola tutaj na barze A to jest też Jest jeszcze tak Ona jest z tego, jak się mówi Dniepro-Pietrowskim Bo Tatiana, mama od Paszki jest z Kijowa A Ola, która u nas pracuje na barze 17 lat ma dziewczyna I ona jest z Dniepro To się mówi w Dniepro A, w Dniepro, ok, ok Eee, dunque Gli stavo dicendo Scusate Che Eee Lui ha già Ha Molti contatti Anche politici Perché Eee Eee E' all'interno Di un partito Di quelli che hanno vinto Alle ultime elezioni Quindi Di quelli che hanno vinto Immagino Eee Il secondo Il terzo Il quarto Che hanno fatto la coalizione Che faranno la coalizione Si esatto 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 E comunque Lui ha più contatti E quindi Sa per certo Che molti Ma trovo Ma trovo Ma trovo Ma trovo Ma trovo C'ha daj C'è Ok Sentimi Santru Salute Salute Bevete Bevete Alla mia salute Sì Acqua Tranqu Non e vodka Garantiamo Potere Water Water No Ok Scusate Dunque No Vabbè Stiamo perdendo il filo del discorso Dunque Molti sono tornati Anche perché Mi diceva appunto Kiev E' ormai considerata Una delle città più sicure Perché E' difesa Dalla Dalla contraerea Fornita Da Europa E dagli americani Quindi Molta gente E' tornata lì Soprattutto a Kiev Quindi Se prima della guerra Kiev faceva 4 milioni di abitanti Adesso Ne fa Quanto meno Il 50% in più Di 4 milioni Perché appunto Considerata la città più sicura Al momento In Ucraina E questo ha fatto sì Che l'economia Ha cominciato a riprendere Quindi E i bar E il Diciamo Le caffetterie E Tavole calde E tutto il resto Ha cominciato a riprendere A lavorare E non solo questo Anche Perché le multinazionali Che c'erano lì Hanno ripreso L'attività normale Perché Sono Non sono sicure Al 100% Perché le bombe Continuano a cadere Quanto meno Nei dintorni Di Kiev Però Quanto meno Al centro Già Sono Sono Molto più sicure E Le due donne Sono Le due donne Che lavorano qua Una era appunto Di Kiev E Col ragazzo Col figlio Ormai si è trasferita qua E si è integrata Perfettamente Un'altra È una ragazza Di 17 anni Che è dovuta scappare Da sola E è arrivata qua È di Dnipro Mi sembra che si chiami In italiano la città Dnipro Sì Dnipro E E Praticamente Si è trasferita qua Lei Non può tornare A casa sua Però invece Quella signora Col figlio Che potrebbero tornare Perché si parla di Kiev Comunque sono rimasti qua Perché appunto Ormai Preferiscono Rimanere In Europa Al sicuro Piuttosto che In una situazione Che comunque È ancora Un punto interrogativo Ascolta Alessandro Se puoi chiedere A Tomek Qual è Il suo ospicio Quali sono Le sue aspettative Nei confronti Di quello Che sta accadendo In Ucraina È una domanda È molto difficile Przegno 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 Perché Oni Iniziali Rosse To Zbombardowali Rozvalili Natomiast Tu Chodzi Io Non Puscio Perché Io Sono Putin In ci auguriamo anche tu che questa guerra finisca ora senza dubbio già qualche minuto più in là è sempre troppo tardi però appunto la questione non è più solo chi ha attaccato chi e per quale ragione adesso ormai la questione è sempre di più vogliamo tornare alla dittatura russa putiniana diciamo che che ci dà poca poca speranza di libertà oppure vogliamo restare vogliamo restare liberi e soprattutto effettivamente chi è in Italia per esempio si dice ci sono molte voci anche troppe secondo me che dicono che Zelensky sia solamente un burattino di della Nato piuttosto che di Biden ogni tanto si parla di Mattarella che ne vengono fuori di tutti i colori ma effettivamente la Russia da cosa è guidata in particolare Putin da chi è guidata cioè effettivamente quali sono gli interessi in gioco della della Russia sono effettivamente solo due piccole regioni di cui potrebbe pure fare a meno perché intanto lo spazio la Russia è il paese più grande del mondo quindi non è che avrebbe bisogno di due pezzi di terra territori sì certo quindi diciamo che se si rispondesse a questa domanda che cosa sta guidando la Russia Putin la Russia di Putin in questa in questa guerra forse si riuscirebbe anche a trovare il punto di svolta e quindi concluderla qua però purtroppo appunto ancora non si è riuscito a trovare nessun nessun punto di svolta intanto un invito a tutti adesso ti mando il link della sua pagina Facebook questo ve lo ricorderò più avanti comunque il 28 di gennaio qui in Polonia si organizza una grande manifestazione di raccolta fondi che vanno in beneficenza agli ospedali pediatrici l'anno scorso se non ricordo male c'è questo il 2023 i soldi sono andati per per l'Ucraina o comunque per qualche attività lì quest'anno non lo so vi farò sapere comunque però sempre per aiuti pediatrici e Tomek partecipa a questa di solidarietà dal suo account Facebook fa una diretta tutto il giorno per raccogliere fondi per questa causa ed è una causa che riguarda tutta la Polonia si chiama Pielka Orchiestra Spiontesse Popozze ed è veramente una cosa importante a cui teniamo tanto qui perché vediamo concretamente i risultati di queste raccolte fondi negli ospedali per i bambini di tutta la nazione quindi questo è un appuntamento e poi ovviamente ci rivedremo qualora ci fossero delle novità o qualora appunto Tomek appunto ci voglia raccontare qualcosa di nuovo ovviamente io sono qua quindi e lui ha il mio numero quindi sa dove abito mi trovo no questa è una cosa bella molto molto bella speriamo di poter fare nel nostro piccolo veramente piccolo qualcosa quindi saremo felici di condividere la pagina e anche eventualmente quel giorno di condividere la diretta perché è un appuntamento secondo me molto molto importante per una causa nobilissima non c'è altro da aggiungere secondo me sì 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 ok ok allora l'ultima domanda adesso la devo fare a Tomek vai falla giù po' là dai potrei mettere il traduttore ma penso che ci starei forse altre due puntate di fila prima di completare la frase quindi conviene che mi fai tu da interprete volevo chiedere a Tomek la passione del gelato da dove gli viene ah ok adesso qualcosa è tuo ma la passione la l'ultima scuola ma non potrei potremmo potremmo po prostu życie Sì, 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 sì. Come Alessandro wie, perché mi ha ricordo, perché quando lavoravo con la mia esforza, nel corporengere delle loro un'esforzamento e l'età della possibilità di sviluppo e si è tutto ciò che abbiamo fatto una condizione età del rispetto. E tutto questo bisogno sia già in vita. I tak to był to był splot od grudnia 2014, ci zaczęło myślenie, do marca 2015, czyli 4 miesiące. Odbiałem decyzję, w którym kierunku pójdę potem, że idę w swój biznes i idę w taki biznes. I potem już zaczęło się organizowanie tego wszystkiego, czyli poszukiwanie lokalu, nauka tego wszystkiego. Tu w Polsce oczywiście trafiłem na ludzi, którzy już ten biznes robili z Włochami wspólnie, bo to Krzysiek, ten mój przyjaciel ze Skierniewicz, który od ponad 20 lat pracuje z dużymi firmami włoskimi, jak z Babi, jak z Lager, jak z Ice Cream Factory, z Ice Team grupą, która produkuje urządzenia do produkcji lodów. Tak, są wszyscy koło Bologii, tak? Tak, to wszystko koło Bologii. Znaczy, Babi nie, Babi jest gdzieś na dole. Babi jest gdzieś tam bliżej Was. Bari może? Babi, Babi. No tak, tak, a Pudian? To nie wiem dokładnie. Nie wiem dokładnie. Jest cały czas w Adriaticznym czy... Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem. Goodbye, prosze. No,culoske. No, nole, la questione è questa. Lui lavorava per una multinazionale importante. E poi a un certo punto diciamo che hanno detto con la moglie insomma si sono detti dobbiamo fare qualcosa per noi, per la nostra vita, non posso lavorare sempre per una multinazionale eccetera eccetera, anche perché le multinazionali sai ti tengono caro fino a un certo punto, quando vedono che arriva qualcuno un pochettino più bravo di te è finito. Sei un numero nella multinazionale di fatto, non sei una persona ma sei un numero. E quindi a quel punto hanno cominciato a pensare a questo tipo di business e lui ha preso contatto intanto con gente della zona polacca che avevano già avviato questa attività. Da loro è arrivato a prendere contatti soprattutto nella zona di Bologna, dell'Emilia Romagna insomma, perché lì effettivamente c'è un centro virtuoso, sembra strano però è così, per la produzione di gelati e per l'esportazione dei gelati. E quindi diverse aziende, lui ha preso contatti con diverse aziende e da lì allora ha cominciato a interessarsi. Il tutto è nato e si è sviluppato nel giro di quattro mesi, tra il dicembre del 2013 e il marzo del 2014. Dopodiché io l'ho conosciuto nel 2014 a lui e praticamente da quel momento è iniziato il lavoro duro perché lavora quasi sette giorni su sette. La produzione va che va perché se ti vuoi dedicare al tuo lavoro, se ti vuoi dedicare a quello che ti piace fare e lo vuoi fare bene, ci devi dare anima e corpo. E lui gli ha dato anima e corpo, effettivamente è cominciata la pubblicità e fortunatamente è andato in potta. Alessandro, devo chiedere l'ultima domanda al signor Tomek, qual è il gusto preferito di Alessandro? Grazie a tutti. mi sembra che ti piacciono un po' tutti i gusti whisky whisky quando è marzo per San Patrizio lui prepara il gelato alla Guinness ed è qualcosa di buonissimo una cosa impressionante fantastico vi invito a venire per San Patrizio la sera facciamo pure i canti irlandesi ci mettiamo qua con i cappelloni verdi enormi e ci mangiamo e beviamo Guinness come se non ci fosse un domani sarebbe da provare sarebbe veramente da provare allora Alessandro adesso purtroppo dobbiamo salutarci e devo ringraziare per me è stato un piacere grandissimo veramente grande di conoscere Tomek perché ho capito che è una persona che si è spesa e si spende molto per gli altri quindi è impegnato nel sociale e nella politica ed è per questo che è una persona secondo me speciale perché fa le cose soprattutto per gli altri immagino immagino che è questa persona che ti ha conquistato Alessandro eh sì no no sì sì gli abbazzo forci no c'è mia moglie con cui ho un contratto di matrimonio e poi c'è lui con cui ho un contratto dolciario quindi eh sì io sono convinto che l'hai conosciuto quando c'è stata la festa di San Patrizio cioè è lì che ti ha conquistato immagino ma conquistato dal primo gelato anzi il primo gelato che ho mangiato qua e non mi sembrava vero di poterlo apprezzare è stato cioccolato e piccante oh guarda ragà se lo trovi da qualche parte lì sicuro lo fanno ma è di un buono che qualcosa impressionante ovviamente il piccante hai solo il gusto non proprio il senso di bruciore però è un ospedale fenomenale fenomenale immagino va bene allora adesso vi salutiamo un saluto al signor Tomec da Brolo un saluto ad Alessandro e ripeto è stato veramente un piacere salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito ricordiamo che siamo raggiungibili sulla pagina facebook di biradio o Brolo Radio e su youtube sempre alla pagina di Brolo Radio Alessandro quando ci diamo appuntamento la settimana prossima la settimana prossima allora d'accordo un saluto a tutti e ci vediamo la prossima settimana ciao e grazie ciao 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 Grazie a tutti